Benvenuti nel mio martedì! Questa mattina ho fatto colazione con la mia solita barretta e poi io e lauri abbiamo registrato dei contenuti prima di andare a scuola dove ho avuto ben 5 ore di lezione dopodiché ho prendato sempre la scuola con un po' di zucchine e due pizzette che abbiamo preparato ovviamente noi domenica tutto molto buono dopodiché dalle 3 alle 4 e mezza ho avuto danza classica abbiamo fatto lezione con un maestro e abbiamo imparato anche una coreografia veramente veramente bella ritornata poi a casa mi sono fatta la doccia e preparata al volo con lauri per andare al cinema infatti sono venuti anche tutti i miei amici e tutti insieme abbiamo guardato Kung Fu Panda sì è un film da bambini ma a noi è molto piaciuto per cena però siamo ritornate a casa abbiamo mangiato un po' di frittata le nostre solite verdure e un altro pezzettino di pizza perché è sempre ad accompagnamento ovviamente adesso che ho comprato gli occhiali da vista li sto mettendo anche per mangiare per guardare la tv mi ci devo un po' fare l'abitudine e poi abbiamo mangiato anche la macedonia poi io e lauri abbiamo fatto skin care che è la nostra parte preferita della giornata e poi siamo andate a dormire sì è verrà grazie a verrà molto appare 我